I Unboxing Qualificanti I Unboxing Qualificanti I Unboxing Qualificanti Guarda guarda che io lo sto riprendendo, non sto mica a perdere tempo come lei Deve sempre fare le foto Allora, qui che dobbiamo... Niente, il Giappone Anche questo ha fatto... No, questo niente Qual era l'inciulato già? L'altro Con lo giallo? No No, qual era? Non mi ricordo più L'altro Vuole fare prima l'altro? Con l'inciulato voglio fare Vuole fare quello inciulato Allora Allora Cari amici Questo Ecco qui Questo Ah, sei contento? Ma no No Perché Prima è toccato a lui qualche tempo fa Adesso è toccato a me Amici Che cosa? Arrivo questo pacco da... Ah, ok Dove Lo sappiamo Ci si deve riferire Soprattutto per ciò che non viene Non solo importato Ma anche scarsamente Dato in mano ai cinesi Per distribuirlo Sono le cose un po' più Ah, ok Mi capisce? Quindi qui quanto le è... Eh, qui la cifra... Il danno quanto è stato? La cifra... La cifra depressificante Per poterlo... Aia... È stato un po' così Sdrenate Beh, un pochino Un cinquantello Eh, di vicino Aia Ah oh Posso già riprendere o tengo... Non faccio spoiler Una doppia scatola Una doppia scatola Quella è Mandaraki Non ho idea di cosa lei possa aver preso da Mandaraki Ah, ecco Non ho la più palida idea Una Valkyria mi vorrebbe da dire No... Non c'è tu un TF No... Neanche un Metal Beard No... Eccolo qua Ma io quasi quasi farei prima quell'altro No, ormai l'abbiamo tirato fuori Sì, no, ormai siamo qui dai Non vedo niente eh Ci stupisca Mi stupisca Ah, osti Beh, l'ha preso da Mandaraki questo? Eh sì Perché Purtroppo I Jordan erano esauriti Questo è bello eh Questo è un bel Metal Beard Ah, questo sì Come si chiama già? Amatsu Hanna Quella Stray Gold Frame Solo che invece di essere quello la versione nera Io c'ho il Black Però l'ho il primo Anch'io Anch'io Nero e non quello rifatto Faccizzato Sì Ma questo secondo me I due Sì Nero con questo bianco a fianco Fanno una figura Spaccano Strepitosa Perché ovviamente non parlo dei personaggi in sé Perché ovviamente non conosco ancora Non l'ho vista E niente No, infatti neanche io Questa fa parte dell'universo No Sì No, di quale Non me lo... Tante belle cosine Beh I Metal Beard hanno sempre delle chicche eh Ovviamente un po' di Backpack 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 è stranissimo Sì è quella Quella ola un po' ricurva Scorpionata Non so come dire Guarda qua quante robe Sì 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 Andiamo a tirarlo fuori Questo è nuovo di pacca però Non è... Boh Perché manderà che di sotto Comanderà che fra un po' è però qui Sì O l'hanno veramente riconfezionato molto molto bene Però comunque il prezzo era abbastanza da nuovo Quindi ci sta che sia... Ah è un prezzo alto quindi Ok Ci sta che sia da nuovo O da quelli che lo prendono in preorder Per poi Capito Quindi questo è venuto a costare un bel polore Ehm... Considerando anche... Considerando le spese di importazione Sì Andiamo oltre 300 No oltre no No Ci può dire no? Non ve lo dito Vabbè No ma... Mi dispiace Mi dispiace Bello La stima perfetta gliela darò quando... Lo vedo già Che ha? Ah bello l'azzurrino No È un blu strano Un blu strano bello Sì Ma l'importante era il rosso e il dorato che... Sì 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 Il rosso Ah no Il dorato è un po' particolare perché Ha le parti anche dorate un po' satinate Satinate sì sì E altre lucide del metallo interno Vedi tipo qui Sì sì Ah bello è mosso Si è mosso Si vede sì sì Il rosso è un po' opacizzato È opacizzato Il rosso è opacizzato sì sì Non è sciasoso come direbbe Non è sciasoso perché è la parte diciamo dorata Come anche qua sotto che lo deve fare da Vedi com'è tutto sbarluccito Non ho mai capito perché gli ha fatto delle punte nei piedi tipo Tipo pirati dei caraibi Cosa c'entra? Non qualche pirati dei caraibi Guarda dei strani pirati dei caraibi lei Cosa le ricorda lei? Non lo so con le punte un po' Ma andiamo ad aprire invece di... Ah questo è lo stand display dai Quello che sta a prendere Certo Ci vediamo che ci fosse un pappagallo Per fortuna non c'è Ma lei dovessero... Si tocchi i marroni faccia le corne no? Si ce lo dico lo dica Se dovessero mai ricoverarla Che le dicono Scusi a visore del pappagallo E io mi piscio d'ostro Piuttosto Piuttosto Vabbè questa è la bianca molto Vabbè questo aspettava lei Ah cavolo Eh questo non poteva mancarlo Secondo me diciamo a livello estetico Non ha l'importanza del soggetto in sé Si si Ma questo Ecco si cos'è Ma esiste vero nel cartone? Probabilmente si Non so se nel cartone Piuttosto che nell'ova Piuttosto che nel manga Piuttosto che nel videogioco Vattene la pesca Ma esiste Le ali li si smovicchiano Non so se hai vista delle ghimmi Si si ma dopo... Vabbè lo vuole già No volevo giusto Così appena accennare Per far vedere Vogliamo farla vedere Un po' di fianco Fiancato a black no? Ce l'ha qui lei? E' qua sotto E' da tenere fuori un po' un casino però Figurati che ci poteva essere... Aspetti eh Magari faccio vedere Il black qua E quello lì Vediamo se riesco a inquadrarlo E' qua su Ecco si si vede dai Non so Lo porto lì No se vuol metterlo Solo che qui c'ho anche lo zacco Un po' in mezzo E non so come sfidare Venga venga Questa è la Questa è la posa che faccio Lascio Lascio Ecco Questa lì C'è un bellissimo silangio Non abbiamo ancora Ah mi si è staccato Qui si lascia La luce sarà quella che è Ma secondo me i due soggetti Mi sassimo No no fanno un figurone Si Ovviamente posati Questo dovrà essere posato adeguatamente Ma... Non da me Non da me Scherzo Sa che io scherzo Bene 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 No lei Sa che da quando ha posato quello zacco Io tutte le volte che posso Glielo rimembero Si lì è un meccanismo un po' contorto Si Contento Che ha visto questo arrivo Si 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 perché mi incuriosiva Si Tra i due che dovevamo vedere Adesso di unboxing Era quello più Più ficchiante Più evoluto Ciò dire di si lei Non credo che lei stia aspettando Chissà quale altre No Anche l'altro non è malaccio Ma non era sicuramente I livelli di questo Questa Questa Era proprio una cosa Sboluta E sbarluta Che mi eccitava Dalla prima volta in cui l'ho visto Beh Meta build Non deludono quasi mai Ah proprio anche come estetica Al di fuori della realizzazione Questo non è Sti recessi Si Un po' particolare Però Un bello spadozzo Hanno fatto la scelta nell'altro Si Farlo tutto lucido E' vero E qui farlo tutto opaco Però se uno va a prendere quello lucido opaco Si forse questo si abbina di più al nero opaco forse Boh Vabbè comunque Adesso perché Assolutamente Bene Ficca assai Poi guardi qua anche tutte le altre armi che lancerà Certo certo Adesso Devo stare a vedere Tante punte Tante robe Si queste le anche black però più o meno Si eh Mi le ricordo Si 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 Bene Un bello unboxing Spero che Vi ficchi Spero che Vi Ovviamente Non so quando riusciremo Guardi quanto Qua il viltro è pieno di Dorato Ah lo abbiamo pesato Aspetta Vabbè ormai abbiamo tolto anche il back Perché non si può Ha ragione Però questi sono leggerini giusto Si Sono a 300 grammi Si 350 350 Va bene Va bene amici Questo è quanto E adesso tocca Vedrete la recensione se avrete un po' di calma E adesso tocca Si ecco Mandarache Altre volte però avevo ordinato Non aveva avuto Si Ahia Forse dipende dal negozio Dipende dal negozio Dipende se lo scrivi Non mi ricordo neanche se gli avevo scritto Di Diciamo Formalizzare l'acquisto in modo corretto Ma Vabbè Ogni tanto Purtroppo Capita Ma Diciamo che sono quelle esclusive Che tanto qua importate Non le troveresti mai E Potrebbero l'ira di dio Quindi Ci fai pace Un po' con quel Quello andava sotto secondo me Sì Sotto così Così Più o meno Perfetto Bene Salutiamo gli amici Salutando Non mi muoia Ninai Ancora Sempre Comunque Disci Quanti 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 Grazie a tutti.